Centrale di via Pustella, in seguito ai nostri servizi, soprintendenze e carabinieri, mettono i sigilli al cantiere. Cacciatore a 82 anni muore, travolto dalla sua auto, stava scaricando materiali dal baule. Alla vigilia della campagna anti-influenzale, anche i vertici dell'Ulsset si sottopongono alla vaccinazione. Ed è stata presentata la tappa del Giro d'Italia che partirà da Bassano mercoledì 21, attenzione alla viabilità. Arrestati i due 23 anni che nascondevano varietti di droga in auto, in casa e anche sotto i vestiti. Buonasera telespettatori, benvenuti a questa nostra nuova edizione serale di Bassano Tg. Apriamo subito il nostro telegiornale con una notizia che ci riempie d'orgoglio e che vi proponiamo in esclusiva. Come avevamo chiesto noi di Rete Veneta, oggi pomeriggio sono stati posti i sigilli al cantiere della centralina di via Pusterla. La sovrintendenza, dopo il nostro telegiornale, ha chiamato i carabinieri e si è mossa per il bene della città, al posto della sindaca Elena Pavan. Sentiamo tutti i dettagli. Mercoledì 14 ottobre alle 16 è stato posto il cartello, il sequestro giudiziario del cantiere, dove stanno lavorando per la costruzione della tanto discusa centralina idroelettrica sul fiume Brenta, ridosso del Ponte Vecchio. Corsi e ricorsi, alti e bassi, una vicenda che sembra infinita, eppure oggi presenti sul posto due militari del nucleo tutela patrimonio artistico e culturale da Venezia, assieme ai carabinieri di Bassano e assieme a un esponente della sovrintendenza da Verona. Quindi adesso il sigillo è stato posto, il cartello, il cantiere è stato sequestrato e le persone all'interno devono portare fuori tutti i mezzi, deve essere liberato il tutto appunto per rispettare questo sigillo importante. Importante per tutta la città. Peccato che a muoversi non sia stato chi deve tutelare Bassano e i suoi bassanesi, ossia la sindaca Elena Pavan, ma si sia mossa direttamente la sovrintendenza di Verona per bloccare i lavori nel cantiere della centralina di via Pusterla. Anticipando la prima cittadina, proprio la sovrintendenza veronese ha chiesto l'intervento immediato dei militari del nucleo tutela beni artistici e culturali da Venezia, appena preso dal nostro Tg la notizia dei lavori in corso. Un lungo sopralluogo durante il quale è stata visionata con estrema cura l'intera area, mentre le ruspe erano ancora al lavoro. Poi il silenzio. E la decisione di porre il sigillo di sequestro dell'area, dell'amministrazione che si possono considerare i padroni di casa, neanche l'ombra. Nessuno dal palazzo municipale, a cominciare dalla prima cittadina, presente a un momento che potremmo definire storico per tutta la città. Dopo le lunghe battaglie, sostenute da Rete Veneta, unica assieme ai cittadini, affiancate dallo sdegno di tanti studiosi e storici che hanno preso una ferrea posizione contro la costruzione di questa centralina privata a due passi dal nostro monumento nazionale. Nei nostri Tg la sindaca Pavan aveva dichiarato di aver informato anche i carabinieri. Peccato che il famoso uccellino molto fidato ci abbia confidato che l'informativa ai carabinieri sia stata inviata solo poche ore fa da un dirigente del comune, altro che dalla Pavan. Insomma, noi avevamo chiesto a gran voce che l'area venisse sequestrata. Così è stato fatto dalla sovrintendenza che ha preso a cuore la vicenda. Ha preso a cuore in realtà tutta una città e i bassanesi non possono che rendergliene merito. Per quanto riguarda la prima cittadina, già nel 2015 l'allora sovrintendente aveva sottolineato in merito al progetto della centralina un limite invalicabile. Il profilo della traversa, si legge, dovrà rimanere inalterato, pertanto i previsti interventi di manutenzione non devono comportare la regolarizzazione del profilo attraverso l'inserimento di nuovi blocchi, poiché questo comporterebbe un'alterazione negativa rispetto alla percezione attuale del paesaggio. Cosa che, le immagini parlano chiaro, non era assolutamente stata rispettata. La sindaca lo sapeva, eppure nulla è stato fatto per bloccare i lavori. Che dire? Apriamo ora la pagina sul... Anzi, domani vediamo che prende il via la campagna vaccinale anti-influenzali. Questa mattina il commissario Simoni e i dirigenti dell'azienda sanitaria hanno dato l'esempio. Vediamo il servizio. Giovedì al via la campagna di vaccinazione anti-influenzale in tutto il territorio dell'Ursette Pedemontana. E a dare il buon esempio sono stati proprio i vertici dell'azienda sanitaria. In primis il commissario Bortolo Simoni. Il gruppo dei direttori l'abbiamo fatta oggi anche per, come dire, dare un po' il buon esempio. Credo che mai come quest'anno sia importante che tutti si rendano conto che la vaccinazione anti-influenzale, oltre che proteggere dall'influenza, aiuta il singolo soggetto e anche tutto il sistema sanitario, gli ospedali, i pronti soccorsi, a rispondere meglio all'epidemia Covid che nei prossimi mesi si va a sovrapporre con l'epidemia influenzale, creando parecchi problemi a livello di diagnosi e anche a livello di intasamento dei servizi. Ora invece vediamo insieme l'aggiornamento appena arrivato in redazione del report della regione del Veneto per quanto riguarda i casi positivi per l'azienda Zero. Quindi vediamo che abbiamo attualmente 230 casi in più rispetto all'aggiornamento di questa mattina. e abbiamo quindi attualmente un totale di 7.314 casi. Scorriamo ora insieme la tabella con i casi dei ricoverati. Vediamo che abbiamo 9 persone in più in area non critica, quindi abbiamo un totale di 280 positivi che sommati e negativizzati, quindi sono 89, sono attualmente ricoverati in area non critica 369 pazienti. La colonna della terapia intensiva è di 40 pazienti, ne abbiamo 5 in più rispetto all'aggiornamento di questa mattina. Con i 6 negativizzati siamo ancora in terapia intensiva a 46 pazienti. Si registrano anche 3 nuovi decessi dovuti al coronavirus. Parliamo ora di tampone perché è stato trasferito al piano meno 1 l'ambulatorio dei tamponi del San Bassiano. Nuova sede per l'ambulatorio tampone allestito al San Bassiano che dall'undicesimo piano è stato spostato al piano meno 1 con accesso dal barco di via Carpellina. Sarà attivo dalle 7 alle 13, 7 giorni su 7 e oltre ad accogliere gli utenti che devono effettuare il tampone perché rientrano da un paese a rischio, potranno effettuarlo anche i pazienti con sintomi sospetti lievi per i quali l'esame è stato prescritto dal medico di base e i soggetti già dichiarati positivi che devono effettuare il tampone che ne sancisce la guarigione e i contatti di positivi. Gli utenti potranno usufruire di un apposito parcheggio adiacente all'ingresso dell'ambulatorio. In tema Covid si cominciano ad elevare le prime sanzioni per violazione del DPCM. Due bassanesi di 31 e 27 anni sono stati multati di 400 euro a testa per non aver indossato la mascherina e uno è stato fermato in via Bacche, l'altro in via Chilesotti. Siamo ora alla cronaca con un incidente mortale accaduto questa mattina a Molvena. Sembrava che stesse scaricando la sua attrezzatura per andare a caccia e la macchina a fatalità non ha tirato il freno a mano, non lo so, è partita, è andata indietro, lo ha travolto, lo ha portato sotto dove era il suo capanno da caccia. È morto così Egidio Xausa, travolto dalla sua auto mentre stava per scaricare l'attrezzatura dal bagagliaio. Aveva raggiunto il suo capanno in via Parisoni a Molvena. La caccia era la sua grande passione, amava questo luogo e da quando era in pensione trascorreva tanto tempo qui in mezzo alla natura. Stamattina qualcosa non è andato per il verso giusto. L'auto è iniziato a scivolare travolgendo l'82N. Per lui non c'è stato nulla da fare. È stato un passante a notare il corpo dell'uomo a terra e a dare l'allarme verso le 9.30. Con ogni probabilità Xausa era lì già da qualche ora. Questo era il suo posto di caccia, veniva qua presto. Come che faccio anch'io perché sono un cacciatore anch'io. Quando è scuro, quando le 6 sei resa e lui qui, sicuramente. Egidio Xausa era molto conosciuto, aveva gestito per anni la trattoria ai tre ponti. La notizia ha fatto velocemente il giro del paese. Diversi gli amici giunti sul posto del tragico incidente per portare il loro conforto ai figli. Era una brava persona sicuramente perché l'ho conosciuto io. E ancora giovane, ancora giovane perché era sempre di corsa. Perciò aveva la sua età però era ancora in ottime condizioni fisiche. L'ho visto qualche giorno fa, l'ho salutato qualche giorno fa. Mi dispiace, mi dispiace, era un amico. E se l'ha vista brutta un parapendista tedesco di 25 anni che nel primo pomeriggio di oggi, dopo essere decollato dal panettone sul grappa, è precipitato con la vela. Un volo di 10 metri sul posto il suo MDC Spano è l'elissocorso da Treviso che l'ha condotto al caffoncello con traumi lombari. E un bassanese è stato truffato nell'acquisto di un orologio su internet. Un orologio di pregio messo in vendita su internet da un cittadino residente a Roma ha attirato l'attenzione di un bassanese di 54 anni. Prezzo 1.600 euro, regolarmente versati in due tranche con ricariche post e pay. Ma l'orologio non è mai stato consegnato. La polizia, tracciando i dati dei pagamenti, è risalita al responsabile che aveva già precedenti specifici ed è stato denunciato per truffa. Bassano si prepara per la terza volta in due mesi ad ospitare un grande evento ciclistico. Si tratta della 17esima tappa del Giro d'Italia presentata questa mattina. Dopo il Giro Under 23 e il campionato italiano su strada, Bassano sarà sede del Giro d'Italia mercoledì 21. È la tappa numero 17 che arriverà a Madonna di Campiglio. Sì, sicuramente è una delle tappe fondamentali perché comunque è una tappa dove cominciano le montagne quelle vere e la salita vera specialmente dopo l'acronometro di Valdobiadene che già dirà chi si potrà giocare la classifica e chi no. Penso sia una tappa bellissima per dare un bel biglietto da vista per far vedere la nostra cittadina che è stupenda e penso che il ciclismo e il Giro d'Italia siano il mezzo di comunicazione più bello per far vedere quanto il nostro territorio è bello da vedere e da visitare. Il villaggio di partenza sarà in Prato Santa Caterina. Il percorso transiterà per le piazze, via Verci e Ponte Nuovo. Delle modifiche alla viabilità che entreranno in vigore già martedì 20 saranno informati tutti i cittadini attraverso comunicazioni porta a porta. Sarà gratuito per due giorni il parcheggio le piazze. È un appuntamento importantissimo al quale non abbiamo voluto rinunciare e avverrà nel massimo rispetto di tutte le normative Covid però è un momento importante per Bassano, una splendida vetrina e siamo orgogliosi di ospitare il Giro d'Italia. Meteo e Covid permettendo, Bassano è pronta a vestirsi di rosa. Parliamo del Monte Grappa e della candidatura a Mab Unesco. Verso il salto di qualità mentre prosegue il percorso della candidatura del Monte Grappa a riserva della biosfera Mab Unesco quando anche la regione ha già dato il suo imprimatur e tutto è pronto. Il 29 ottobre la firma ufficiale del sindaco di Bassano il 15 dicembre la consegna della domanda all'Unesco e a maggio 2021 la proclamazione ufficiale che riguarda un'area di 170.000 abitanti 25 comuni, 3 province, Vicenza, Treviso, Belluno due camere di commercio e una certa complessità organizzativa che include diverse aree. Il tema della conservazione, del paesaggio, della biodiversità il tema dello sviluppo sostenibile legato al mondo impresa e il tema dell'educazione rivolto diciamo alle scuole al tema appunto dell'istruzione, degli scambi informativi e dei giovani e siamo feri di dire che nel 2020 siamo gli unici che sono riusciti a progredire nel lavoro nonostante il periodo di crisi da Covid siamo riusciti in modalità anche da remoto a svolgere importanti riunioni per definire il piano di lavoro e il piano della futura riserva insomma a Mabonesco e siamo l'unica candidatura che verrà presentata dall'Italia al Comitato Internazionale di Parigi. Non manca la progettualità in vista del riconoscimento di maggio 2021 sono già ben 152 i progetti sul tavolo di lavoro che riguardano anche Bassano. Intendiamo valorizzare quei progetti che sono in corso rivalorizzare il Parco Ragazzi 99 la progettualità rispetto anche al Parco Parolini ma anche ad esempio soprattutto tutta quella progettualità riguardante il percorso del Brenta e le attività necessarie per valorizzare il percorso per procedere con i percorsi ciclopedonali. E vi ricordo telespettatori di continuare a segnalarci situazioni di degrado che vedete vicino a casa vostra oppure di pattume sporcizia quindi segnalateci il tutto mandateci video o foto via Whatsapp al 340-321-8379 oppure scriveteci un'email. Amministrazione di Cartigliano al lavoro per ultimare l'ampliamento della rete wifi gratuita e i numerosi lavori di manutenzione sulle strade. In un solo anno, per giunta contraddistinto dall'emergenza Covid l'amministrazione del Comune di Cartigliano porta a compimento alcuni fra i più attesi interventi di manutenzione stradale e messa in sicurezza degli attraversamenti. Un risultato unito all'installazione del nuovo impianto di videosorveglianza e all'ampiamento della connettività gratuita in edifici ed aree pubbliche che testimonia la volontà di proseguire nella crescita e nello sviluppo del territorio. Già ultimati i lavori di manutenzione di viale Lungobrenta le asfaltature di via Sole e via Pordoi e l'installazione di due telecamere Targa System lungo la provinciale 58 per le auto in arrivo da Rosà e via Bassanese per le auto in percorrenza da Bassano. Quasi completato anche l'intervento di messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale di via Monte Pasubio. Infine saranno presto attivati numerosi hotspot con accesso gratuito per l'ampliamento della connettività gratuita e veloce negli edifici e nelle aree pubbliche. Ed è grande festa oggi in casa di Maria Peretto a Tezza Sul Brenta cento anni in piena salute celebrati anche dal sindaco. Racconta a lei stessa di avere sempre avuto una salute di ferro e di avere solo adesso raggiunti cent'anni qualche acciacco. Maria Peretto ha festeggiato il felice traguardo in compagnia dei parenti. Sempre è stata bene. Sempre è stata bene. Nella circostanza è arrivato il sindaco Luigi Pellanda che a nome dell'amministrazione di tutta la cittadinanza di Tezze ha regalato alla signora Maria un mazzo di fiori e una pergamena a ricordo del traguardo secolare. Ancora molto lucida e vestita con gli abiti della festa la signora Peretto ha apprezzato moltissimo l'autorevole visita per lei in attesa e sorprendente. Nel 2021 a Tezze sono previsti altri tre compleanni centenari. Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tutti lo conoscono come Gigio e lo ricordano come Bidello ma Luigi Cerantola è anche un pittore uno di tanti artisti che il comune di Tezze sul Brenta sta valorizzando. La hall del municipio diventa una sala espositiva per gli artisti di Tezze sul Brenta che abbiamo scoperto essere molto numerosi circa una trentina che si stanno riunendo in associazione e periodicamente ogni 15 giorni uno di loro espone le loro opere. Domenica prossima inizierà un fotografo inizierà la sua esposizione un fotografo Domenico Rigon e poi a seguire tutti gli artisti di Tezze sul Brenta e sicuramente l'iniziativa è straordinaria per il nostro paese. In questi giorni l'artista al centro dell'attenzione è Luigi Cerantola da tutti conosciuto come Gigio specialmente in ambito scolastico dove ha lavorato come Bidello. Da anni si dedica a dipincere. Colori me li faccio io sono colori miei, fatti da me e non li fa nessuno come li faccio io. Mi piace dipincere il mio lavoro, mi piace, mi diverto un hobby. La passione ricorrente di Cerantola è la città di Venezia. Però la Venezia è sempre statica è sempre fatta così ho voluto farla diversa colorata viva Venezia è viva. Perché tante donne anche nei suoi quadri? Perché come Venezia la donna per me è come Venezia bella, splendida. E proprio nel giorno della nostra visita Gigio ha un pensiero per una donna speciale. Veramente speciale oggi compri gli anni la mia figlia Giorgia e voglio fare tanti auguri. Un percorso della memoria in località Valmarù Marcesina Il comune di Enego si aggiudica un bando regionale per la valorizzazione dei territori colpiti da Vaia. La regione conceve al comune di Enego il finanziamento per i progetti di valorizzazione dei territori colpiti dall'evento Vaia. Il progetto denominato Connessione della memoria ha l'obiettivo di creare un percorso della memoria di circa 4 km nella zona di Valmarù Marcesina. All'inizio e alla fine del percorso verranno installati pannelli informativi e tutte le sedute saranno realizzate con tronchi di Vaia. Costo complessivo di circa 75 mila euro di cui 59 mila di contributo e 15 mila di cofinanziamento con fondi propri comunali. Nascondevano la droga letteralmente in ogni luogo possibile arrestati due giovani di 23 anni. Guai per due 23 anni sorpresi durante un controllo. Nel corso delle operazioni straordinarie messe in atto dalla questura gli agenti hanno fermato due 23 anni un padovano residente a Cittadella e un vicentino residente a Torri di Quartesolo. I due si sono subito mostrati nervosi insospettendo i poliziotti che hanno perquisito sia i giovani che la macchina. sequestrati quasi due etti tra marijuana e hashish parte nascosti nell'auto del Cittadellese nel portaoggetti e sotto la ruota di scorta parte negli slip e nelle tasche del vicentino che poco prima vistosi scoperto aveva dato in escandescenze accusando l'amico di essere uno spacciatore. A quel punto l'amico ha iniziato a fare una sceneggiata incolpandolo di metterlo nei guai a sua insaputa in realtà invece poi questo ragazzo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente in quantità sicuramente superiore rispetto appunto al conducente. La perquisizione a casa del vicentino ha permesso di scoprire quindi altri 120 grammi di marijuana nascosti in un armadio. I due sono stati arrestati la vettura su cui si trovavano non è stata però sequestrata in quanto intestata alla madre del ragazzo padovano. E dopo la riunione in prefettura è arrivata la conferma la fiera di Arsego si farà dal 17 al 19 ottobre. La 273 fiera di Arsego si farà. L'annuncio del sindaco di San Giorgio delle Pertiche Daniele Canella dopo il comitato in prefettura a Padova la fiera di Arsego si farà. I timori e le incertezze dopo la firma del nuovo DPCM avevano costretto il primo cittadino a temporeggiare nel dare l'annuncio ufficiale. Ovviamente i dispositivi di sicurezza messi in campo sono massicci a partire dagli ingressi. L'area feristica sarà transennata e ci saranno nove varchi d'accesso mascherina obbligatoria e igienizzazione delle mani quando si entra. Ci sarà anche un conto a persone così quando la massima capienza verrà raggiunta si chiuderanno i parcheggi per evitare l'ingresso di ulteriori avventori. La capacità massima vista l'estensione dell'area di 17.000 metri quadri e di 17.000 persone. La chiusura dei parcheggi però è stabilita quando si raggiungono le 15.000 presenze. Controlli costanti delle forze dell'ordine e della protezione civile, impiego dei droni e cabina di regia all'interno della scuola. Rispetto al programma degli anni passati annullata la discoteca e gli eventi serali, niente pesca di beneficenza e niente expo artigianale. Previste le giostre e solo le bancarelle e in numero ridotto anche quelle che vendono cibo che può essere consumato solo al tavolo. Puntata da non perdere questa sera Sport in Casa con Alex Giuliano perché si parlerà del destino del calcio dilettantistico perché quale sarà il suo destino e se ne parlerà in studio con Patrick Pittone vicepresidente della LN di Veneta. 21.15 invece focus condotto dal nostro direttore Luigi Baciale in studio ci saranno Leopoldo Bortero Rossella Cendron Roberto Milani Antonella Tocchetto Deborah Varaskin e Alberto Villanova Ora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di domani non ci sono altre notizie per questo nostro telegiornale per questa nostra edizione grazie a voi di essere stati in nostra compagnia arrivederci Dalle verdi malghe dell'Alessinia nascono i formaggi le soppresse i salami la coppa al vino rosso di Verona dal sapore semplice ed unico provali da Cherubin Ben trovati al meteo nuovo ciclone sull'Italia ancora maltempo al nord-est nella giornata di giovedì 15 ottobre vediamo la situazione nel dettaglio sul Veneto condizioni di tempo molto perturbato piogge e temporali bagneranno un po' tutte le province della nostra regione fenomeni a tratti anche intensi e quantitativi abbondanti specie sulle coste e sui monti neve sulle Alpi sopra i 1200 metri temperature in calo minime fino a 9 gradi valori massimi compresi invece tra 11 e 14 gradi all'incirca ci spostiamo ora invece a Bassano del Grappa tempo in deciso peggioramento la nostra grafica infatti ci mostra che anche qui sarà spiccatamente instabile con piogge diffuse durante la giornata localmente anche consistenti infine temperature in lieve diminuzione dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto arrivederci assapora le specialità dell'Alessinia mozzarella latte crudo 2 euro e 80 cotto nazionale da busseto Parma 15 euro e 90 al chilo Cherubin a Bassano via Gobbi di Rete Veneta di Rete Veneta di Rete Veneta Grazie a tutti.